Siamo a Venaria Reale. Gli allievi dell'Accademia Navale di Livorno sono i protagonisti del gran ballo nella Reggia Sabauda. La prestigiosa manifestazione Vienna sul Lago, che unisce cultura, formazione e solidarietà, è partita ufficialmente lo scorso 21 ottobre con il concerto della banda musicale della Marina Militare nei giardini della Reggia Sabauda e ha visto gli allievi dell'Accademia Navale di Livorno impegnati in diverse attività formative e culturali al fine di conoscere le diverse realtà ed eccellenze del territorio. Tra queste l'incontro con il prefetto Francesco Paolo Castaldo, la conferenza su giustizia e sicurezza tenuta dal magistrato Pier Camillo Davigo, la deposizione di due corone e monumenti caduti di Nassiria e Marinai d'Italia a Novara e la visita al sommergibile provana del Parco Valentino di Torino. Attività intervallate a giornate intense di prove e di ballo per prepararsi al meglio all'evento finale e vivere un'esperienza unica ed emozionante. Si tratta di un evento che ha un elevato valore formativo per quello che rappresenta. Il gran ballo della Venaria Reale è solo l'evento conclusivo dell'intera manifestazione che in realtà abbraccia eventi culturali di alto livello e naturalmente anche la preparazione poi a questa ultima manifestazione che richiede molta disciplina e molto impegno. Grande emozione durante la serata del gran ballo della Venaria Reale presentata dagli attori Alex Belli e Corina Grandi a favore del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta. Credo che sia un evento ormai consolidato sia nei rapporti con la Marina Militare sia per quanto riguarda il territorio. Durante l'incantevole serata nella Galleria Grande della Reggia Sabauda, 30 allievi ufficiali dell'Accademia Navale di Livorno hanno accolto le giovani dame provenienti da tutta Italia e dall'estero, danzando sulle note dell'Orchestra Mozart di Torino. Quando si è aperto quel portone abbiamo visto tutta questa gente, genitori, amici, parenti, autorità civili e militari, è stata sicuramente una grande emozione. Felicità, soddisfazione e realizzazione di un sogno. È stata un'emozione molto forte, immagino sia per me che per le nostre dame, ed è un'esperienza bella da vivere. È un'emozione fortissima. Vederla così sorridente, allegra, felice, è la cosa più bella che un genitore potrebbe avere. Una favola moderna, un ballo in grande stile che ha regalato una serata magica ad allievi e dame, un evento conclusivo di un percorso ampio compiuto sotto il segno nobile della solidarietà. Grazie a tutti.